E' successo di ogni nel weekend portoghese di Superbike, Portimao ha ospitato sicuramente un weekend importante per il campionato del mondo delle legate della serie se dopo sabato sembrava un mondiale indirizzato verso la Turchia dopo la giornata di oggi in particolare la gara 2 evidentemente è ancora tutto aperto, dovremo parlare tanto di quello che è successo nella categoria regina parliamo ovviamente di Superbike, soprattutto di una delle gare più belle che abbia mai visto da quando seguo questo sport in particolare ovvero la gara 1 del sabato pomeriggio, dopodiché parleremo anche delle altre gare della domenica Superport Race gara 2 e concluderemo con l'equatoria di controllo dove peraltro si è assegnato già un titolo del mondo per quanto riguarda la Supersport 300 con Adriano Huertas Nota a margine, prima ancora di entrare nel merito di questa gara e questo weekend di Superbike non uscirà il Racing Podcast per quanto riguarda invece la MotoGP a Austin, Texas perché il martedì ho intenzione adesso di far uscire, visto che siamo a inizio ottobre, un post fisso diciamo sulla MLB visto che oramai siamo in tempo di playoff e ovviamente sapete che il baseball ha priorità anche sulla MotoGP ma torniamo invece a parlare della Superbike con una gara 1 veramente sensazionale che veramente ha visto un agonismo tra i contendenti al titolo e non solo veramente ai massimi livelli, tantissimi episodi controversi, tantissimi episodi tanto discussi, tanti sorpassi, controsorpassi, emozioni a non finire probabilmente l'episodio più controverso è questo, innanzitutto un iniziale diciamo avvisaglia di schermaglia tra Top of the Arts and Dog e Jonathan Ray che di fatto non si placherà prima del clamoroso colpo di scena ovvero la caduta del cannibale alla curva 15 curva che peraltro sarà diciamo una cartina di torna sole per entrambi i piloti ma ovviamente ne riparleremo dicevo i piloti avevano espresso un'aggressività mai vista in questo contesto con qui vediamo un ingresso di Rasgatioglu un po' garibaldino con il cannibale che chiude e sarà praticamente un continuare a sorpassarsi e sorpassarsi per tantissimi giri segno che evidentemente sono due contender di un certo livello per il titolo del mondo abbiamo un Rasgatioglu da una parte che effettivamente dispone della moto migliore e che sa di essere probabilmente avvantaggiato nella lotta al titolo del mondo nel momento che appunto è già in vantaggio in classifica generale avendo però a disposizione anche la moto migliore Rasgatioglu sta come dire sviluppando sempre di più la sua confidenza nei confronti delle varie piste che lo vedono impegnato in questa lotta mondiale e incredibilmente Rasgatioglu si è trovato competitivo anche a Portimao pista direi che dall'altra parte invece è totalmente al limite e era oltremodo in difficoltà soprattutto per quanto riguarda la gara del sabato poi pian piano in realtà il cannibale andrà risollevandosi pian piano passano 4-5 giri di passione con appunto Rasgatioglu e Ray che se le danno di santa ragione anche Redding che è terzo si inserisce anche lui nella festa a un certo punto l'inglese è primo e lascia di fatto il cannibale Rasgatioglu scannarsi poi si scambiano le posizioni a un certo punto Redding è secondo con Rasgatioglu terzo e Ray primo e arriviamo al primo episodio importante di questo mondiale superbike per quanto riguarda Portimao ovvero la caduta terrificante, drammatica di Jonathan Ray che avviene di fatto a piena velocità nell'ultima curva di Portimao quella di fatto in discesa verso destra che immette nel primo del traguardo è di fatto una curva che si fa piena in quarta marcia e Ray viene scalaventato quando era di fatto in testa e stava per allungare ricordiamo che Portimao storicamente è sempre una pista di Jonathan Ray ci ha vinto con oggi 13 volte e effettivamente sulla carta per Rasgatioglu era un round in difesa eppure questa aggressività ha mascherato appunto evidentemente il fatto che Rasgatioglu potesse essere in difficoltà e alla fine il turco si porta a casa una vittoria dopo aver lottato con Redding oltremodo meritata tutto sommato e dunque ancora una volta suona la marcia delle dipendenze all'inno nazionale della Turchia ed è una vittoria importante che sembrava evidentemente aver indirizzato il mondiale verso la Turchia tanto è vero che prima di vedere le gare della domenica io avevo già pronto il titolo del video con Toprak quasi campione della Superbike, Adrian Quertas campione della Superport 300 invece non è così perché la domenica cambia ancora una volta le carte in tavola e alla fine arriviamo a due round alla fine con un distacco risicatissimo tra i due contendenti che ci stanno veramente regalando un mondiale straordinario perché cambia la domenica? cambia perché innanzitutto a Portimao nella notte tra sabato e domenica mentre questo è il podio di gara 1 con appunto Toprak 1, Reading 2 e un clamoroso Loris Batz 3 ma di quello ci arriviamo dicevo la domenica cambia le carte in tavola perché di fatto nella notte butta giù un'acqua incredibile la pista si bagna e dunque abbiamo una sprint race sul bagnato e in queste condizioni non convenzionali viene fuori Michael van der Mark e ancora una volta si fa la storia in questo mondiale Superbike perché l'olandese prende di fatto il nuovo corso della BMW che è rientrata a pieno organico il 2019 e la porta alla prima vittoria appunto da quando sono rientrati è veramente un van der Mark sul pezzo che fa risuonare Helt Wilhelmus per la quinta volta in carriera ed è veramente un buon viatico per il piloto olandese che in parte si riscatta dopo una bruttissima uscita in gara 1 dopo che è stato di fatto travolto da Locatelli che sbaglia il punto di staccata alla curva 6 quindi van der Mark spinge letteralmente Locatelli in un gesto diciamo di eccessiva reazione che viene condannato dai commissari di gara il giorno dopo van der Mark comunque dimostra di avere un passo della madonna sul bagnato e ha ragione degli avversari e dunque appunto per questo riscatto di van der Mark non solo in questa gara di Portimao ma in generale in casa BMW perché ricordiamo che BMW ha investito tantissimo su van der Mark visto che l'anno prossimo sarà lui di fatto il primo pilota con una coppia interessantissima con Scott Redding e la Ducati andrà in BMW di fatto van der Mark ha fatto le scarpe a Tom Sykes che pare torni nel BSB è comunque un segno che BMW probabilmente ha dato ragione all'investimento di van der Mark e abbiamo visto come pian piano la casa di Monaco si è cresciuta in questa gara di Portimao soprattutto col pilota olandese che veramente aveva un passo importante e anche sull'asciutto vedremo avrà fatto tanto tanto bene l'olandese volante se però come abbiamo detto in gara 1 la curva 15 ha dato a topo l'adaptistoglu arriva un altro episodio molto importante qui in gara 2 ovviamente alla domenica pomeriggio ed è la caduta del turco sempre in curva 15 in un contesto praticamente identico a quello che ha coinvolto il cannibale qui pare che a differenza di Jonathan Ray un pezzo della moto in realtà di Rasgatioglu vada pian pianino a decomporsi e a rompersi per poi appunto gettarlo per le terre è una caduta che anche qui per fortuna è soltanto spettacolare ma appunto avendo che Rasgatioglu ha fatto zero non c'è il colpo decisivo per il mondiale perché effettivamente qui arriva il riscatto del campione il campione deve effettivamente farsi trovare pronto in questi momenti dopo un weekend disastroso dopo che sembrava evidentemente segnato per il secondo posto al titolo del mondo Jonathan Ray si riscatta e vince una gara straordinaria perché evidentemente questa è la gara evidente dove Jonathan Ray dimostra di essere presente ancora per la lotta al titolo del mondo Jonathan Ray dopo essere caduto anche in Super Bowl Ray sul bagnato nei primi giri di gara questa volta doveva partire dalla decima posizione Rasgatioglu partiva poco davanti Rasgatioglu non è un fenomeno sotto l'acqua tuttavia comunque un conto come dicevo anche nello scorso recent podcast della Superbike è avvicinare Rasgatioglu un conto e superarlo sono due cose veramente diverse Ray per fortuna ci riesce e di fatto riscatta due giorni che sembrava veramente segnata e disastrosa con la vittoria di oggi di Jonathan Ray saliamo a 110 in carriera qui al nord irlandese 13 soltanto a Portimao a fronte di 21 podi a posteriori Ray avrebbe potuto raccogliere molto di più se si pensava alla vigilia dove ovviamente il nord irlandese era il favorito messa così di fatto è ancora un mondiale aperto a due giornate dalla fine due gare dalla fine è meglio perché come vediamo il distacco è di 24 lunghezze tra la top e la classifica ancora primo in classifica e Jonathan Ray seconda 454 a 30 punti di distacco da Jonathan Ray c'è Scott Redding che comunque ha fatto una gara costante una gara che forse poteva anche vincere probabilmente aveva chance più in gara 1 con questo Rasgatioglu che poi dopo la caduta di Ray ha deciso comunque di allungare e vincere è un mondiale veramente interessante che avrà ancora appunto due tappe da compiersi una in Argentina il 16 e 17 ottobre e l'altra in Indonesia a fine novembre è ovviamente un mondiale che non è segnato perché 24 punti a fronte di 6 gare totali sono veramente veramente pochi è stato comunque un colpo di scena vedere i due principali contender cadere in questa curva 15 che veramente ha dato e ha tolto al turco e al nord irlandese ed è stato ancora più un colpo di scena vedere tanti piloti che non erano protagonisti fino alle volte scorse arrivare e fare delle gare sensazionali perché abbiamo dei podi a ripetizione di Loris Buzz che ha sostituito Chad Davis ancora infortunato dopo la caduta di due weekend fa Loris Buzz non era neanche nel mondiale dopo l'anno scorso è stato di fatto appiedato da Tencate è andato a immigrare nel Moto America sempre con Ducati torna in situazione di Chad Davis primo weekend molto interessante con due gare in top 10 secondo weekend a Portimao tre volte sul podio veramente qualcosa di incredibile per un pilota che comunque nelle derogate della serie di fatto ci è cresciuto e ha avuto la maggioranza della carriera ha avuto anche una comparsata in MotoGP Loris Buzz con la Yamaha Forward Yamaha Clienti qui in situazione di Chad Davis la Ducati del team Go11 che di fatto è semi ufficiale di fatto riesce a fare meglio di quello che ha fatto il dragone in una gara soltanto va detto che appunto il dragone non era al meglio del suo potenziale sarà magari che Loris Buzz a Portimao ha trovato una confidenza che magari in altre piste non ha dimostrato ma sono tre terzi posti consecutivi e sono dei risultati veramente veramente incredibili tanto è vero che Loris Buzz si merita alla stragrande uno dei premi del rider del giorno possiamo dare anche un premio di rider del giorno a questo ragazzo Leandro Mercado che con l'onda clienti del team Mie fa una straordinaria ottava posizione in gara 1 nella gara appunto che mi ha fatto saltare dalla sedia per la grande caduta drammatica di Giovan Terrei che ho visto in diretta insomma mi ha fatto veramente impressione Mercado con una moto letteralmente che non avrebbe diritto di cittadinanza in questa superbike riesce a metterci una pezza pazzesca e a farci veramente dei risultati incredibili perché anche nella gara lunga quella della domenica riesce a fare un undicesimo posto molto molto interessante era una superbike che evidentemente era già di alto livello non mi aspettavo che evidentemente il livello si alzasse così tanto se consideriamo che anche appunto piloti subentrati hanno fatto bene è tornato anche in pista Eugene Laverty dopo che Sykes si è infortunato con appunto una commozione celebrale anche lui dopo l'incidente clamoroso di Barcellona e Laverty anche lui fa una gran bella gara e non mi spiego sinceramente come Laverty si è rimasto a piedi dopo che ha fatto quattro gare con il team RC Squadra Corse e anche lui evidentemente meriterebbe molto di più che evidentemente fare il piatto a sostituto in BMW e comunque appunto ancora una volta occasione per dire che questa superbike ci terrà incollata allo schermo fino alla fine perché evidentemente non vedo come questo mondiale possa andare in un epilogo diverso da una lotta fino all'ultima gara è un mondiale più combattuto della MotoGP e a maggior ragione più spettacolare e questo per fortuna avvalora la mia tesi che mi fa prediligere le derivate della serie anche alla MotoGP in quanto campionato prototipi comunque ancora una volta Rasgatiogli stanno dando spettacolo non è detta l'ultima parola ancora una volta San Juan è un circuito che appunto ha avuto già un ingresso in Superbike nel 2018 dove però appunto è più esperto Jonathan Ray rispetto a Toprak l'Indonesia invece sarà un circuito incognito per tutti visto che appunto esordirà proprio a novembre e li vedremo come appunto sia saranno le condizioni sia la conformazione della pista parliamo invece dei nostri italiani che ancora una volta dimostrano di essere sul pezzo non ne abbiamo moltissimi perché competitivi ne abbiamo tre ma quei tre fanno sempre Top 10 a ripetizione segno che anche noi ci siamo in un mondiale che è dominato da due fuoriclasse in particolare Jonathan Ray negli ultimi anni e quest'anno da Top a casa del Togo che sta dando veramente fio da torcere al cannibili il migliore dei nostri in generale Michael Rinaldi che fa una straordinaria quarta posizione in gara 1 purtroppo cade in gara sprint e mezzo infortunato corre gara 2 facendo una incredibile settima posizione per le sue potenzialità il pound for pound migliore in realtà come rendimento è Andrea Locatelli che giustamente l'hanno confermato in Yamaha ufficiale per l'anno prossimo al fianco di Toprak e questi risultati veramente lo dimostrano ripeto Dalson in poi Andrea ha trovato la quadratura del cerchio del suo campionato e sta inanellando risultati importanti a ripetizione non ha ancora vinto sul bagnato forse poteva puntare al podio ma era effettivamente difficile battere specialisti del bagnato come Michael Van der Mark e lo stesso Loris Batz che ha fatto podio per non parlare di Redding che ovviamente è inglese sul bagnato gli inglesi i britannici in generale hanno una marcia in più Axel Bassani fa ancora una volta per quello che fa delle gare incredibili settimo, settimo e nono i piazzamenti per il pilota a Veneto c'erano anche altri italiani in questa competizione Samuele Cavalieri è stato confermato nel team Barney ancora fino a fine stagione e ha fatto comunque delle gare interessanti per quelle che sono le sue potenzialità quindi punti bassi della classifica se va bene in queste gare purtroppo appena fuori c'era anche un quinto italiano in gara Gabriele Luio con la wild card della BMW per il team B-Max Racing un team ultra privato un po' di esperienza per il giovane piatto romano classe 2000 tra due settimane quindi ricordiamo la Superbike correrà di nuovo in Argentina sarà veramente un Tour de Force pazzesco 6 gare alla fine per un campionato che evidentemente è ancora tutto forché da decidere e se devo essere sincero mi dispiacerà vedere uno dei due perdere ma logicamente in un titolo del mondo da segnare va così da una parte Topaz Gratoglu è sicuramente un predestinato di questa categoria ed è il futuro derivata della serie della Superbike dall'altra parte al Jonathan Ray che è evidentemente un fenomeno un campione nel vero senso del termine 110 vittorie non sono arrivate per caso quest'anno Ray si è scoperto anche un animale da qualificazione cosa che invece non l'è mai stato e oggi però come ripeto ha dimostrato di essere veramente un campione riscattando due gare orrende due gare buttate via nella pista che doveva essere la sua dove nella migliore delle posizioni poteva fare tripletta di vittorie e accorciare sull'Algazio Oglu invece no il mondiale è ancora aperto ma perché l'Algazio Oglu è caduto l'Algazio Oglu ha pure la moto migliore ha una confidenza molto più alta direi che invece manifesta tanti problemi se Jonathan Ray dovesse vincere questo titolo del mondo sarà veramente a maggior ragione il mondiale di Jonathan Ray ancora più del 2019 dove lì Bautista di fatto mezzo lo butto via dovesse vincere l'Algazio Oglu sarà veramente la consacrazione di quello che è un talento e non lo scopriamo di certo da oggi quindi mi raccomando tra due settimane nuovo Racing Podcast sulla Superbike che veramente mi sta tenendo incollato allo schermo per praticamente tutte le gare per un mondiale che invece prosegue c'è un mondiale che si è concluso ed è quello della Supersport 300 perché sabato Adrian Quertas vince la gara 1 di Portimao e si aggiudica anche il titolo del mondo primo della carriera per un pilota che ha dominato letteralmente questa stagione in una categoria dove è difficilissimo dominare e fare il largo evidentemente la Supersport 300 si presta molto alle dinamiche di gruppo come la Moto 3 nelle categorie dei prototipi e evidentemente è impossibile avere tanto margine rispetto agli avversari i Quertas ha avuto invece un ruino di marcia molto molto superiore rispetto alla media e come vediamo dalla classifica ha avuto ragione degli avversari veramente nettamente poteva già chiudere il mondiale a Jerez il giocatore spagnolo e invece non è diciamo riuscito nell'impresa visto che è caduto anche abbastanza rovinosamente alla curva 6 a Portimao basta il secondo posto in gara 1 per giudicarsi il titolo del mondo visto che appunto il vantaggio dopo la gara 1 su Jeffrey Buis e Tom Boothemus era veramente incredibile e ampio Tom Boothemus che peraltro ha abdicato già da Barcellona alla rincorsa al mondiale perché appunto è caduto e di fatto non ha preso parte alle ultime 4 gare sulle 5 disputate alla fine in realtà la classifica non è aggiornata Jeffrey Buis venire a terzo e Tom Boothemus secondo perché Adrian Quertas andrà a vincere la ultima gara della stagione quando di fatto il titolo del mondo è stato assegnato la gara 1 invece la vince Samuel Di Sorà la prima vittoria in carriera per il piatta francese anche qui gara incredibile da parte del francese perché partiva diciottesimo in sesta fila ed arriva primo in volata va detto che appunto è la Super Sport 300 e sappiamo come in questa categoria è molto più facile rimontare a differenza per esempio della Super Bike vero Ray è rimontato oggi da decima alla prima posizione ma Ray è un fenomeno nella 300 i valori in campo sono obiettivamente livellati il podio di gara 1 invece appunto lo completa lo stesso Quertas e Utah Kaia che fa il suo secondo podio consecutivo mentre per quanto riguarda la gara 2 che appunto si è appena conclusa appunto Adrian Quertas ha concluso la prima posizione Tom Butemos ha concluso con un podio in seconda posizione e terzo è Bahaten Sofoglu nipote di Kenan che peraltro è tornato in pista tra Portimao e Rez della frontiera e probabilmente non mi stupirei di vedere Sofoglu Junior in 600 600 che ha anche lei avuto la sua gara di Portimao e come per la Super Bike per la Super Sport 600 mancano due gare alla fine una gara 1 che è storica a suo modo perché torna a vincere Jules Clusel dopo anni veramente di prestazioni altalenanti il piatta francese di MG 94 riesce nell'impresa di centrare la prima vittoria quest'anno a vantaggio di Egerter che invece sta cominciando già a fare il ragioniere e finisce soltanto in terza posizione per quanto riguarda la prima gara Egerter poi non finirà neanche a podio la seconda perché trionferà Steven Oden che è il diretto concorrente appunto dello Svizzero per il campionato Oden ha dato un segno di vita importante forse un po' troppo tardi visto che come vedremo il campionato dello Svizzero è molto molto ampio va detto che comunque a mio modo di vedere Oden si è riscattato dopo veramente un periodo di bassi come vediamo appunto dalla classifica di questo campionato dunque ricapitoliamo Jules Clusel vince gara 1 di Portimao e per lui suona la marsigliese per quanto riguarda la seconda posizione è Manuel Gonzales pilota che probabilmente non vedremo più in questo paddock ma andrà in moto 2 nel nuovo team Yamaha Mastercam VR46 e terzo appunto è Egerter che comunque ha 54 punti di vantaggio su Oden nella due gara dalla fine evidentemente è un mondiale più indirizzato di altri questo per lo Svizzero Oden invece torna a vincere dopo la prima gara di Most e far risuonare in Codice se che lì l'Africa lì nazionale sudafricano seconda posizione per Jules Clusel che comunque in questa pista ha dimostrato di saperci fare e non poco e torna sul podio in Supersport Federico Caricasulo che fa veramente risuonare di gioia il suo team il nuovo team in realtà di Federico Caricasulo che è il team Yamaha Motix Racing Caricasulo per mezza stagione ha corso con il team di Clusel non raccogliendo però i risultati sperati da quando però ha cambiato team ed è andato di fatto nello stesso team di Maria Herrera Caricasulo tranne gara 1 di Portimao che non lo ha visto protagonista sempre fatto risultati interessanti e sono culminati con il podio del numero 94 un Caricasulo che su questi livelli può comunque competere in una categoria che comunque lo ha visto sempre protagonista considerato che appunto ricordiamo che Caricasulo è vice campione mondiale del 2019 ha vantaggio meglio di Randy Krumenacker che comunque è anche dietro di lui in classifica soli due punti una categoria che lo ha rivisto tornare indietro dopo l'anno comunque discreto in Superbike va detto che appunto io Caricasulo in Superbike l'avrei tenuto soprattutto vedendo cosa combina Cotano Zane che fa più o meno risultati analoghi al giovane pilota Ravannate tutto questo per dare l'appuntamento al prossimo recent podcast per quanto riguarda la Superbike tra due settimane verosimilmente 16-17 ottobre con le due gare di San Juan Villicum mentre il recent podcast tradizionale su quanto riguarda la Formula 1 sarà al termine del GP di Turchia quindi il 10 di ottobre questa è la classifica della Superbike che appunto tornerà tra due settimane il prossimo video sul canale sportivo invece sarà martedì per parlare del tabellone dei playoff della MLB siamo a ottobre dunque arriverà il momento clou di ogni stagione del meraviglioso luogo del baseball e dunque qui rimanete sintetati sul mio canale il saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo quindi al prossimo video